Su Città della Scienza a fiato se ne è sprecato tanto. Il Polo del Sapere, il Presidio Culturale del Mezzogiorno, la leva per il rilancio di Napoli e della Campania. Eppure, dopo il lockdown, il Museo e il Centro Congressi non hanno mai riaperto. Le attività non sono ripartite e i lavoratori, preoccupati per il proprio futuro, continuano a lamentare un totale scollamento con i vertici aziendali. Neanche la campagna elettorale è servita a far intervenire sul posto qualche amministratore. Ed è per questo che i dipendenti della struttura, dopo averne discusso in un'assemblea con i sindacati la scorsa settimana, hanno proclamato uno sciopero dando vita a una protesta all'esterno dei cancelli. Con i lavoratori e anche i rappresentanti della Filcams CGL, Luana Di Tuoro e Alfonso Fraia. Purtroppo siamo di nuovo qua per tre motivi molto semplici. Innanzitutto la certezza delle retribuzioni, la certezza dei livelli occupazionali, la ripresa delle attività, anche se in forma parziale, ma che non può essere più differita. Perché va sgombrato il campo da un equivoco. I lavoratori di Città della Scienza rivendicano con forza il fatto di aver voluto la regione campagna all'interno della governance con un ruolo forte. Non è vero che abbiamo, come qualcuno dice oggi, lacrime di coccodrillo e ci lamentiamo del fatto che ci sia la regione campagna all'interno. Anzi, per noi è un punto di forza e una certezza. Chiediamo solo un'assunzione di responsabilità e un impegno maggiore rispetto a Città della Scienza. Noi rimarremo in sciopero fino a quando l'azienda incomincerà a fare il suo mestiere, cioè tenere relazioni sindacali. Il fiss che abbiamo avuto adesso ricopia in qualche modo lo stesso schema di fiss che abbiamo avuto nella precedente cosa. Il punto fondamentale di tutta questa storia è che la regione ha dato il suo appoggio a Città della Scienza, però ha messo un management che non conosce minimamente Città della Scienza e che ha utilizzato il management che c'era prima, cioè quelli che hanno provocato il buco di 20 milioni di euro, sono gli stessi che adesso decidono chi è in fiss e chi è in smart working.